Sembra proprio che tra Albano e Romina non ci sia feeling, nemmeno adesso che sono tornati a rivolgersi la parola dopo parecchie settimane di silenzio. Il leone di Cellino San Marco e la 35enne pare siano stati pizzicati dai paparazzi del magazine Nuovo TV mentre discutevano animatamente per strada, nella capitale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo realmente. Lite in strada tra Albano e Romina Carrisi Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti non ha reso note le ragioni della discussione in strada. Ma la tensione tra il cantautore di Cellino San Marco e Romina Junior sembra essere degenerata. L'attrice ed opinionista di oggi e un altro giorno ha ammesso sul piccolo schermo di essere incompresa dal 78enne, nonostante gli sforzi della ragazza. Dal canto suo il maestro Salentino ci ha tenuto a precisare che l'infanzia della figlia è stata segnata prima dalla sparizione della sorella più grande Ilenia e successivamente dalla separazione di Colo. Il rapporto tra Romina Carrisi e la madre. Albano più volte nelle varie interviste ha fatto sapere che la scelta della quartogenita di lasciare il nostro paese e trasferirsi negli Stati Uniti quando era poco più che maggiorenne. Questo non ha di certo aiutato a rafforzare l'intesa tra padre e figlia. Infatti ora i due devono fare i conti con alcune mancanze. Completamente differente è il rapporto tra Romina Carrisi e la madre. Infatti quest'ultima e la 34enne si supportano a vicenda e spesso Romina Power ha promosso le poesie e gli spettacoli teatrali alla quartogenita. Ora la ragazza vive nella capitale vivendo nuove esperienze in televisione. Da qualche mese, infatti, la giovane è una figura fissa nel programma Pome. Grazie a tutti. Grazie a tutti.